E' emersa anche un'opinione contrastante tra i clienti del Bar Centrale e uno addirittura ci accusa di fare propaganda politica. Ha fatto la spesa. No, io non sono politico. No, ma non per politica. I prezzi che salgono? I prezzi. Non abbiamo mai speso poco come adesso. Non abbiamo mai speso poco, figlio mio, come adesso. Dovevi stare quando io passavo da casa sua, andare a casa 50 anni fa con i zocchili di legno. Microfoni da santo. Non con la vita che è adesso, la vita che fa gli nocchi, non fare della propaganda, che cosa? C'è chi li ha viste le cose nere, non voi. Non puoi più tenerli in considerazione perché i tempi sono cambiati. E' un bambino che mi ha fatto la stella con tre, quattro sbessi e lasciare l'aria in bulezzo. Cara Contessa, hai già il lavoro, eh? Oh, venga, venga, professore, il momento è profitto. Siamo soli? Sono tutti di là a sentire il discorso? È un discorso. È un pezzo che non ci vediamo. Sì. Il progresso è venuto, il progresso ha portato il benessere, però naturalmente a nostre spese, a spese di chi vavora, di chi è a favore di quelli che comandano. Anche questa la stella chiara. Noi, oltre il progresso, abbiamo superato oltre e adesso cominciamo a pagare le conseguenze. Perché loro si guadagnano in un anno 15 miliardi, non so, delle cifre spropositate. Mia moglie prende 322 euro al mese, sicché si accadeva con quello. Diamo come l'ha fatto. Ah, non fa. Ah, non fa. E' il rapporto fra costo e cosa? No, 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 no. Le pensioni calano e i prezzi crescono. Si fa più fatica ad arrivare alla fine del mese? Sì, sì. Molto. Caro, amore, amore. Vogliamo andare in Italia? Oh, no. Non lo vogliamo toccare, non lo vogliamo toccare. Possiamo pesare. Sì, non la cinghia. Dobbiamo pesare. C'è il disastro, il disastro. Credete che un nuovo governo possa rialzare la crisi economica italiana? Sì, forse, per troppo. Adesso vediamo, stiamo a aspettare. Buon pomeriggio. Siamo in compagnia di? Barbara. Dovello. Bene, ci troviamo al mercato. Allora, si fanno buoni acquisti, secondo voi? È un buon mercato quello di Borgo? I prezzi sono alti? Cosa ne pensate? No, i prezzi sono alti e il mercato è triste. L'inflazione c'è? È fatica arrivare a fine del mese col mangiare o si fa? Ascolta, è fatica. Però i ristoranti sono sempre pieni. E allora qualcuno lì ha i soldi da andare a mangiare? Qui quando si compra la roba bisogna stare attenti a spendere poco. Però le macchine sono sempre strade, sono sempre piene di macchine nuove. In i ristoranti è sempre pieno che bisogna avvisare otto giorni prima. Ciò vuol dire che l'inflazione, lo sappiamo, che l'euro ci ha rovinato. Però bisogna anche capire di fare un po' economia. Il commercio. Non è una roba così. Ci parla proprio in questo periodo di pensioni basse e prezzi alle stelle. Qual è la soluzione, secondo lei? La soluzione? Io di politica non è che me ne intendo molto, però la soluzione è che siamo giù a livello di economia. La soluzione con il nuovo governo speriamo che lo risolva lui. Con il nuovo governo e il nuovo ministro del bilancio. Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza. Ma che dice mai? Non lo sai mai. Non è vero, non le faccio le puzze. Le faccio, le faccio. Non le faccio. I crofoni da salto. Mi fa più fatica ad arrivare alla fine del mese? Sì, sì. Molto. Potrebbe fare dei mesi più corti. Sennò dare la pensione due volte al mese. O i mesi più corti e la pensione due volte al mese. O due volte la pensione al mese. Due volte la pensione. Vedremo quale sarà la soluzione. Sennò dare la pensione.